E' finito il campionato italiano rally. La vittoria è andata a Paolo Andreucci con Anna Andreussi a bordo della Fiat Punto Super 1600 della Procar. Per Paolo Andreucci, forte pilota di Castelnuovo Garfagnana, è il bis del titolo italiano ottenuto con la Focus VRC e va ad aggiungersi ai tanti campionati due ruote motrici vinti. Per Procar l'ennesimo scudetto e nel medagliere della dinamica struttura pistoiesse va ad aggiungersi ai tanti campionati nazionali e continentali vinti. Cambiano i regolamenti, le vetture, ma loro sono sempre lì, Paolo Andreucci e la Procar. Ancora una volta la Toscana sul gradino più alto. A loro e a tutti quelli che hanno permesso questo ennesimo risultato i complimenti di rally and race in Toscana. Grazie!